C'è bisogno di riprendersi Roma che oggi è una città che è nelle mani dei costruttori e degli speculatori. Quello che noi vogliamo fare anche attraverso la candidatura alle elezioni comunali a Roma è proprio dire questo, cioè che oggi la stragrande maggioranza dei romani non ha rappresentanza, non è protagonista della vita di questa città. Invece noi pensiamo che a questa città si debba dare voce. Riprendersi Roma in questo senso e quindi dire per esempio che le privatizzazioni e il piano tronca non sono la soluzione per Roma, che lasciano intatto tutto il sistema in mafia capitale e che saranno l'ennesimo assegno in bianco dato da questa città alla speculazione. Grazie per la visione!